Scuola suona la campanella che ricorda i gravi disagi risolti degli istituti comprensivi. Il suono della campanella del 16 settembre ha ricordato in diversi istituti comprensivi di Siracusa gli stessi disagi irrisolti e col trascorrere impietoso del tempo scandito dall'indolenza dell'attuale amministrazione comunale, aggravati che nei bambini e nel rispetto dei loro diritti ha sempre visto un interlocutore privilegiato. Tra le situazioni più gravi, Civico 4 indica la succursale scelta per l'istituto Voitivo alla condizione della Geracate, l'archia, la viabilità nei pressi dell'istituto Paolo Orsi e il punto interrogativo che gira attorno alla scuola elementare di Via Algeri.